Dopo un rapido sguardo al cronometro inizia ora. Luis Felipe Orlando prima di lui, Mesenghez di testa per Gliozzi, allunga Gliozzi al limite, bella la giocata, Mesenghez! Si è divorato, un rigore in movimento, Mesenghez! E ancora tenta la giocata lunga, il fuorigioco in aria la Melitese, la mette il numero 10, il tiro! Il miracolo di Luis Felipe Orlando che evita lo 0-1 e si riparte ancora lo stop. Palla fuori, dialogo tra il difensore centrale destro del Melito Borgo-Grecanico e l'estremo difensore sulla soluzione da adottare per andare alla battuta. Ancora Gliozzi deve intervenire, il tocco! Il tocco bellissimo di Mesenghez per Nirta che deve andare da Gliozzi, buono l'errore, Gianpaolo in aria, Gianpaolo al limite, Gianpaolo fuori! Buono lo scambio tra Orlando, Luis Felipe e Carbone a cercare Goffa in mezzo, Mesenghez, Gliozzi, Goffa cerca Mesenghez di testa! La recupera regolarmente, Gliozzi sul sinistro, Gliozzi sul sinistro, prova Gliozzi! Ribaldata a Mesenghez! Parato, il secondo! Ancora il tocco di Mesenghez! Vai in dribbling, recupera Carbone, Gliozzi è in posizione regolare, è tutto buono, Gliozzi in dribbling, deve passarlo a Gliozzi, bellissima la torsione! Matteo! Gliozzi! Babalinese 1, Melito Borgo-Grecanico 0, al minuto 40, la sbloccata, Matteo Gliozzi! Ancora il cross in mezzo, l'angolo bucato, Orlando Luis Felipe la rimette, il brivido! Su tentativi di cross, sempre dietro la schiena, e ancora Calderone deve rientrare, Gliozzi va a dare una mano, Calderone buca l'intervento, palla in aria, brivido! E Galluzzo blocca, e finisce qui il primo tempo di Bovalinese, Melito Borgo-Grecanico, sguardo di intesa con i due direttori di gara, occhio al cronometro, e il secondo tempo di Bovalinese, Melito, inizia ora! Deve andare a metterla! Attenzione Galluzzo! Con una vera e propria parata da Cineteca riesce ad evitare! Ancora, Cofa la mette, Gliozzi l'aggancia, Mirta! Ottimo passaggio e tiro, in un fazzoletto! Ancora il passaggio, deve girarsi da quella parte, ancora, cross in mezzo, Mirta non ce la fa! Tutto solo, traversa, superiore del Melito! Ancora stella ariana, Mirta! Va profondo, Rechichi! Deve mettere pressione, Rechichi! Non ci crede! Giampaolo! Palla lì, pallonetto, ottimo! Orlando Luis Felipe! Evita la rete! Tra le fila della Bovalinese è ancora il tocco, Mirta, bravissimo! Da quella parte per Giampaolo, tutto regolare! Giampaolo la accompagna, Francesco Giampaolo! In aria Giampaolo! Francesco! Giampaolo! Bovalinese 2! Melito 0! Sinistro e destro! E ancora, in maglia numero 14, crossa, se la rianna difende, palla fuori, Galluzzo blocca addirittura! Ancora Calderone, Calderone, il tiro! Ottimo, il tentativo di Francesco Calderone! Giampaolo, partita che è finita adesso, fuori gioco! La gara è conclusa in questo momento e finisce qui, Bovalinese 2, Melito 0, altra vittoria!